Buonasera a Milano, Tito Boeri, economista, nonché fondatore della Voce.info. Professor Boeri, voglio chiedere anche a lei un commento da economista e anche da chi ha osservato oggi un po' i mercati finanziari, che sono andati un po' come su e giù, come un'altalena, esattamente come i sondaggi e le proiezioni. Da domani cosa succederà sui mercati finanziari? Già da oggi, perché in realtà poi le contrattazioni sui futures sono andate avanti anche dopo la chiusura di piazza affari e l'indice ha perso più del 4,5% in Italia, ma anche all'estero, in Francia, perdite attorno al 4% e in Germania attorno al 3%. Quindi credo che si guardi con forte preoccupazione alla situazione dell'Italia, al fatto che si vada verso una situazione in cui al Senato non c'è una maggioranza definita, in cui il Movimento 5 Stelle è il partito determinante, è quello che può muovere la maggioranza in una direzione o nell'altra. La Camera sta continuando lo spoglio, se comunque ci fosse la vittoria del Partito Democratico avremmo comunque una situazione al Senato bloccata. Quindi questo chiaramente preoccupa gli investitori, l'abbiamo visto anche sullo spread che è aumentato in fin di seduta. Un scenario che lei vede in questo modo, o cosa pensa sarà possibile? Esclude una grande coalizione alla tedesca, che è un po' già stata nell'anno del governo Monti, pensa che sarebbe salutare per l'Italia una collaborazione, un governo PD assieme al PDL? Ma è un quesito difficile a cui dare una risposta. Io credo che oggi ci sia una crisi politica che non è stata affrontata dal governo Monti. Il governo Monti ha affrontato la crisi economica, non quello della classe politica. E questa crisi della classe politica va assolutamente affrontata. Quindi un governo che si proponesse di fare alcune cose fondamentali, tipo dimezzare se non ridurre un terzo il numero dei parlamentari. Secondo, porre dei limiti molto forti ai compensi dei consiglieri regionali. Quindi, tra questo, anche rintroducendo la possibilità da parte del Parlamento italiano di controllare i compensi, perché oggi sono i consiglieri regionali che decidono quanto pagarsi. E, infatti, ci sono queste situazioni davvero pesantissime. Giustamente l'opinione pubblica ha reagito a questi scandali. Terzo, cambiare la legge elettorale, che con un programma di questo tipo, per poi tornare alle urne, potrebbe, io credo, raccogliere un certo consenso. E per altri aspetti sarebbe anche una risposta all'emergenza del Paese. Perché ricordiamoci che l'emergenza economica è figlia poi di un fallimento di una classe politica. E questo fallimento della classe politica, purtroppo, non è stato minimamente affrontato sotto il governo Monti, che a mio giudizio ha delegato ai partiti l'autoriforma senza capire che i partiti non si sarebbero mai riformati da soli. E con Monti è sicuramente il grande perdente. Adesso, tra l'altro... È il grande perdente. Dall'altro lato, come dicevate voi, in qualche modo la situazione di stallo che si è creata al Senato riapre anche quella possibilità. Tutto dipenderà da che cosa sono i senatori che sono stati eletti col Movimento 5 Stelle. Noi sappiamo davvero poco su di loro. Ricordava prima Elisabetta di quello che hanno fatto in Sicilia. L'esempio di Parma è un esempio per certi aspetti contraddittorio perché Pizzarotti ha fatto esattamente l'opposto di quello che aveva detto in campagna elettorale, a partire dalle promesse fatte sul termovarizzatore, ha fatto le cose diverse sull'occupazione dei suoli, non ha fatto nulla sulle società partecipate, quindi... Qual è stato l'errore più grande del PD? Credo di non aver creato nessuna speranza di una riduzione delle tasse in Italia. Il livello della pressione fiscale è insostenibile, questo era il tema centrale, hanno lasciato che questo tema fosse utilizzato da Berlusconi, che tra l'altro l'ha usato in modo molto abile, perché l'idea della restituzione dell'Imu è un'idea che è molto attraente, perché noi abbiamo soprattutto dei pensionati che oggi hanno magari delle proprietà immobiliari non irrilevanti, ma che hanno un problema di reddito e quindi si trovano a dover pagare un Imu molto pesante a fronte del fatto che hanno difficoltà, proprio non hanno liquidi, non hanno reddito per poterla pagare. Quindi l'idea di restituire questi soldi per molti è stata sicuramente molto attraente e Bersani ha lasciato completamente aperta questo spazio, che tra l'altro era anche intuibile, perché era lo stesso tema su cui Berlusconi aveva fatto una grandissima rimonta nel 2006. Non ho capito perché non si è mai occupato di questo problema, né si è occupato fino in fondo del problema della crisi della politica, perché questo era un altro terreno centrale su cui bisognava fare di più, intervenire, attaccare la Lega sulla questione del federalismo, perché il federalismo la Lega è quello che ci ha consegnato questi consigli regionali che si decidono quanto pagarsi. Ecco, però anche la Lega professor Boeri ha perso molto, no? Certo, certamente. Appunto per questo si poteva benissimo aggredire questo tema e ridire che bisognava dare al Parlamento la possibilità di tagliare i compensi dei consiglieri regionali e impedire che a livello appunto delle amministrazioni, di queste amministrazioni, ci fossero queste clamorose distorsioni di fondi pubblici. Professor Boeri, ma l'Italia a questo punto rischia di fare la fine della Grecia, ovvero di essere commissariata dalla cosiddetta troica, quindi dalla BCE, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Commissione Europea? Beh, non c'è dubbio che l'andamento dei mercati, ripeto, anche dopo la chiusura di Piazza Affari, proprio dimostri che c'è appunto una paura di una deriva alla greca e il rischio in effetti che si debba tornare alle urne come è già caduto in Grecia è molto forte. Era per questo che bisognava cambiare la legge elettorale. Detto questo, per fortuna c'è stato negli ultimi mesi un certo rasserenamento nei mercati internazionali e la situazione è in qualche modo migliorata, anche perché altri paesi stanno facendo meglio, perché è intervenuta l'Europa. Tra l'altro, ecco, l'Europa è stata un'altra grande assente di questa campagna elettorale. Io posso capire che non si è voluto parlare dei vincoli che l'Europa ci impone, ma c'erano anche delle grandissime opportunità che l'Europa ci sta dando. Facciamo per esempio un esempio. La Banca Centrale Europea sta accettando di prendere come garanzia i debiti certificati della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese italiane. Questo è un fatto importantissimo, perché dà ossigeno a delle imprese che oggi non hanno liquidi, perché lo Stato non le paga. Ma ci sono anche altri terreni su cui l'Europa potrebbe fare molto di più. Ecco, in questo senso è mancato anche questo messaggio nella campagna elettorale. ebbene